Ciao, sono Gordon Fantini, primo fagotto solista alla Belgian National Orchestra in Brussels. Il mio amico e collega Homan Kalash ha creato un bellissimo progetto fondato sull'unione di musicisti provenienti da diverse culture e nazioni. Lo scopo di questo gruppo di musici è quello di onorare la cultura occidentale e l'eredità culturale persiana del periodo pre-islamico come culture simili e come sorgente d'ispirazione per l'arte contemporanea occidentale. Con la Euro-Persion Art Ensemble suoneremo musica classica accanto a nuove composizioni e arrangiamenti, con la possibilità di mescolare anche i timbre degli strumenti tipici della cultura persiana. Questo progetto interessante include dunque musica persiana tradizionale, musica classica, letteratura, storia e attività educative che ci permetteranno di scoprire e realizzare la grandezza e la connessione tra la cultura persiana e pre-islamica e quella classica occidentale. Noi crediamo e diamo valore nell'educazione e consideriamo la gioventù il pilastro portante della società, ragione per la quale mettiamo i giovani al centro dell'attenzione e miriamo al loro convolgimento. A presto!